Dal 1987 Motomania offre una gamma completa di moto e scooter, oltre a un impeccabile servizio di assistenza per tutti gli appassionati di motociclismo. Visitando lo showroom di Termoli troverete gli ultimi modelli in commercio e usato garantito, ma anche abbigliamento, articoli e accessori prodotti da marchi leader di settore. Lo staff è altamente specializzato e competente, capace di supportarvi nella scelta del modello perfetto per le vostre esigenze di guida e di offrire preventivi trasparenti per qualsiasi tipo di riparazione. Motomania, una passione per i motori che cresce da 30 anni.